In barba le buone intenzioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, l'allenamento di questa mattina, condito da una copiosa pioggia battente, si è svolto con i fari ben accesi, con buona pace delle bollette salate di luce e gas. Poco male, l'Avellino, reduce dai ranghi ridotti di ieri, è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro il Monterosi. Tornati regolarmente in gruppo dall'Oglio e Ricciardi, oltre a Rizzo che si è allenato con un vistoso scaldacollo dopo l'intervento ai denti, solo Diego Gambale ha svolto differenziato, correndo intorno al campo, agli ordini del professore Rizzo. Stoici portieri, primi ad entrare in campo, tra i quali c'era anche Pasquale Pane, che era stato tenuto a riposo, così come Tito e Auriletto. Autopen influenza Antonio Di Gaudio, Garetto, Russo e Sbraga, che ne avranno probabilmente ancora per qualche giorno. Umore alto, intanto, con qualche sorriso, più spiccato del solito, a partire da Jacopo Murano, che, nota di colore, è entrato addirittura in campo canticchiando con dei pantaloni discutibili provvisti di vistose prese d'aria. Bene così, il buon umore favorisce le vittorie ed anche la continuità.